Partiamo subito dal primo rigore perché sei stato diretto protagonista di quell'azione. Ne parlavamo con Pilon e Cosmi, un tocchettino, Bocalon è crollato a terra, un rigorino, lo possiamo chiamare così. È stato bravo lui, c'è stata una trattenuta come ce ne sono tante sui calci piazzati, ma mi è sembrato eccessivo dare il rigore. Non si può fare altro che accettare le decisioni dell'arbitro, se no siamo lì a fare polemiche continue. Dopo siamo stati bravi a recuperare la partita e nel finale è successo quel che è successo. Senza voler ricordare le numerose pallagolle che ha avuto il Pescaro, l'abbiamo fatto in abbondanza, io volevo parlare un po' della tua partita perché nel primo tempo, come se ti mancasse un po' il ritmo, avevi qualche problema, nel secondo tempo invece abbiamo rivisto il Balzano che conosciamo tutti, si è andato bene sulla fascia, tra l'altro da un tuo cross è nato il gol del 2-1. Il Balzano dei primi 45 e il Balzano dei secondi, cosa è cambiato? All'inizio della partita c'era Di Mariano che è molto bravo, quindi ero più preoccupato per la fase difensiva. Ci sono capitate poche azioni, poi naturalmente ci sta, erano tre partite se non sbaglio che non giocavo, quindi un po' il ritmo partita manca sotto quel punto di vista. Dopo la gamba si è liberata, nel secondo tempo abbiamo avuto qualche azione in più in offensiva e di conseguenza c'è stata la possibilità di spingermi oltre come di solito accade. Antonio, tanti giocatori esperti nel Pescara, in quel finale però avete commesso la leggerezza del secondo rigore, avete subito il gol al 94esimo dopo che la partita sembrava praticamente vinta. Purtroppo nel calcio ci sta, capitano quando loro attaccano, ci può stare che rischi determinate cose. Purtroppo è capitato un altro rigore, è un pareggio amaro, è arrivato agli ultimi minuti perché potevamo sigillare la posizione in classifica oggi con la vittoria. Purtroppo rigore che non l'ho visto, ma mi dicono tutti che pare sia netto anche, è un peccato, ma manca ancora una partita, cercheremo di mantenere il quinto posto e dopo ci giocheremo tutta nei play-off. L'ultima, Antonio. Prima del gol del 2-1, che tra l'altro come detto è nato da un tuo cross, a me, ma a tanti, in tribuna non è sfuggito come Scognamiglio, che era anche vicino a te, urlasse io la panchina, cambio, 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 nel momento in cui il Venezia sta facendo una grande pressione. Insomma, che cosa vi siete detti tra i più esperti lì dietro? Ma io non l'ho notato. Cambio forse perché volevamo essere più coperti, visto che sapevamo che il Venezia l'avrebbe provato in tutti i modi a pareggiare la partita, quindi di sicuro era... Era prima sull'1-1 era? Sull'1-1? Sì, quando c'era il momento in cui Fiorillo ha fatto quella parata, poi per rotta ha salvato sempre sul tiro del centrocampista della Venezia, lì si è un po' cambiato Scognamiglio. Perché forse mancava, eravamo un po' stanchi, e quindi ci voleva qualche cambio per dare un po' di freschezza magari al centrocampo. Non lo so, non l'ho notato io. Io so che abbiamo dato tutto quello che avevamo, ed è un peccato perché potevamo portare a casa una grande vittoria oggi. purtroppo è il calcio, quindi penseremo alla prossima.